Ciao a tutti ragazzi ed eccoci pronti ad andare ad affrontare il delfinato con la nostra Mitchelton un delfinato che risulta molto importante soprattutto per il nostro giovane Mattio Pietro che avendo poco recupero abbiamo impostato una stagione proprio incentrata sul delfinato lui farà delfinato e poi vediamo se lo portiamo alla vuelta con gradi di capitano o comunque da gregario quindi un delfinato che secondo me è molto importante merita di essere giocato a video tra l'altro abbiamo già giocato il Giro d'Italia in live se ve lo siete persi mi raccomando andate a recuperarvelo che è stato un bel giro, un bel giro d'Italia soprattutto con Plap se non l'avete visto non voglio spoilerarvi nulla andatevelo a recuperare allora ragazzi un delfinato che Tao me lo dovrà fare qua segna il Tour de Suisse ma in realtà Tao ha bisogno di correre perché è appena rientrato dall'infortunio subito all'UAE Tour e ricordiamoci che lui deve far capitano al Tour de France quindi non so se riuscirà ad entrare in picco di forma per il Tour quindi ho bisogno di farlo correre, correrà tanto, delfinato e occiten dovrà farle Tao per forza quindi ragazzi allora direi che la nostra squadra tipo c'è un Root King Grey che ha mal di testa direi che può starsene a casa e far spazio proprio al nostro Tao questa qua è la nostra squadra, in teoria siamo per Mattio Pietro e direi che possiamo subito andare a giocarci questa prima tappa che dovrebbe vedere l'arrivo in volata, in realtà potrei anche simularla però ci proveremo con Lamperti a far qualcosa ultimi 5 km di questa prima tappa del delfinato ragazzi c'è già il nostro splendido Gheganart a tirare Pietro Mattio, no non mi serve ragazzi Pietro Mattio non posso farlo tirare perché è troppo scarso in pianura ho bisogno degli altri perché mi devono portare fuori i Lamperti però Van der Hoorn si ostacola attenzione ragazzi 3,5 km no ragazzi no 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 come al solito le volate sono sempre il mio problema ragazzi le volate sono sempre il mio problema non riesco mai ad essere giusto mettiamo a farla volare Tacco Van der Hoorn splendido vincitore di una tappa al Giro d'Italia ripeto se non ve lo siete visti andatevelo a vedere perché ha fatto un capolavoro Tacco Van der Hoorn e non dalla fuga tra l'altro neanche dalla fuga raga io provo già a scattare farò partire una volata lunghissima per Lamperti però è l'unica cosa che posso fare vediamo ragazzi Lamperti prova a trovare un varco ma prende solo una top 10 ragazzi le volate sono ancora una bestia per me in questo gioco non le so ancora gestire molto bene purtroppo mi sono fatto un po' fregare avevo il treno un po' troppo lungo secondo me dovevo dovevo fare un trenino più piccolo comunque dai ottava posizione per Lamperti diciannovesimo strong prendiamocela e amen andiamo alla prossima tappa tappa 2 iniziano le tappe interessanti addirittura viene catalogata come media montagna vediamo nel finale tentiamo di tenere lì i nostri due capitani Mattio e forse Gaganart capitano non credo però teniamolo lì e andiamo nel finale ragazzi riprendiamo già il meno 5 perché stranamente in questa tappa non è successo nulla assolutamente nulla nessun attacco stranissimo in una tappa segnata come media montagna che non ci sia neanche stato un attacco però così è stato giochiamocela in volata a questo punto con Lamperti 3 chilometri e mezzo sono un po' lungo come al solito il trenino troppo lungo allora togliamo Tacco mandiamo Valentin Maduaz a lavorare ok è tutta discesa non ho controllato solo una cosa se ci sono curve nel finale no quindi dovrebbe essere una volata tranquilla 2 chilometri 1 e 7 via Valentin dentro Corbin Strong che mi parte ora e parte ora Lamperti vediamo ragazzi li ho lanciati bene li ho lanciati bene vediamo Lamperti Lamperti è strong Lamperti è strong attenzione Lamperti ce la fa si riprende una rivincita dalla volata di prima andata male Lamperti vince davanti al nostro Corbin Strong poi Mattio Pietro quarto e quinto Gheganart tappa assurda ben 4 dei nostri nelle prime 5 posizioni quindi arriva il primo gran risultato di questo delfinato ovvero la vittoria di Lamperti davanti a strong quarta posizione Mattio Pietro quinto Gheganart assurda la nostra squadra quindi Lamperti si va a prendere la maglia gialla strong è quarto Lamperti anche secondo nei punti attenzione a Matt Spedersen solo 5 punti ma sarà comunque molto molto difficile abbiamo anche la maglia bianca per il momento siamo partiti alla grande terza tappa altra tappa di media montagna stavolta con un arrivo in leggera salita quindi facciamo molta attenzione con Mattio Pietro e vediamo anche Gheganart ragazzi ci siamo 5 km e ci sono i primi attacchi quando inizia l'ultima salita allora tentiamo di fare la strategia aggressiva vorrei mandare in attacco uno alla volta tutti i nostri magari Lamperti no era qua perché il capitano l'avevo messo lì dietro al nostro trenino ovviamente puntiamo su Mattio per questa tappa allora il problema è che la strategia aggressiva non credo si possa fare perché non abbiamo abbastanza vagoni dovevo magari tenermi anche Corbin Strong però ho preferito fare un trenino più piccolo forse ho sbagliato bene tacco bene tacco ora facciamo lavorare un pochettino Valentem Maduaz 85 bravo tacco salimi su piano ok ah tra l'altro Gaganart aveva un meno 3 lasciamo perdere in montagna meno 5 l'ho usato come porta borracce un vero dispiacere vederlo così però è a rientro dall'infortunio ci può stare raga allora vediamo se Lamperti ne ha per mantenere la maglia gialla ma non penso non penso perché sta dando tutto forse non doveva stare nel treno però amen ormai c'è ci rimane vediamo Valentem Maduaz splendido tra l'altro si affianca anche Romain Gregoire qua quindi iniziano a farsi vedere i nomi i nomi forti di questo criterium dodofinema il nostro Valentem Maduaz con un ritmo allucinante riesce a tenere davanti Pietro Mattio vediamoli vediamoli ragazzi perché spiana anche leggermente l'arrivo spiana anche leggermente facciamo già scattare Valentem Maduaz vediamo lancia la volata Pietro Mattio che parte ora vediamo ragazzi Valentem Maduaz con Pietro Mattio Pietro Mattio che esce all'ultimo vediamo Pietro Mattio si va a prendere un'altra tappa mamma mia che bel delfinato per ora la vittoria prima di Lamperti e ora la vittoria di Pietro Mattio con la terza posizione di Valentem Maduaz purtroppo Lamperti non salverà la maglia gialla ma in teoria la andiamo a prendere noi con Pietro Mattio quindi va benissimo così e allora altra tappa vinta stavolta con Pietro Mattio e terza posizione per Valentem Maduaz e la gialla infatti la teniamo noi con Pietro Mattio quarta posizione Valentem Maduaz ovviamente Lamperti è sceso un pochettino però Lamperti è sempre secondo per la maglia verde ragazzi cronometro allora io la cronometro sinceramente mi sento di dire che la vado a simulare perché? perché Pietro Mattio fa abbastanza schifo a cronometro a 63 Valentem Maduaz pure quindi raga si difenderanno da soli c'è tra i favoriti Gaganart ma ricordiamoci che viene dall'infortunio quindi avrà un picco di merda quindi raga simuliamo e vediamo un po' come va la vince Mats Pedersen davanti a Vlasov i nostri non sono andati per nulla bene ma ci sta non sono forti primo dei nostri strong è 73 esimo quindi perdiamo la gialla e il problema è che abbiamo un distacco bello pesante eh sì molto pesante ragazzi Matteo è a 6 minuti e 33 da Mats Pedersen che ha la maglia eh la vedo la vedo dura sinceramente la vedo dura quinta tappa collinare e attenzione perché qua credo che ritorni in gioco il nostro Lamperti per provare a fare un bello sprint e magari guadagnare punti per la maglia verde quindi andiamo nel finale e ragazzi entriamo anche in questa tappa negli ultimi 5 chilometri non è successo nulla nelle salite se non qualche attacchino come quest'uomo della IF che siamo riusciti già a riprendere quindi per ora abbiamo una situazione abbastanza buona con il nostro il nostro team tutto davanti ora tocca Valentin Maduaz 3 chilometri raga prendiamo il gel Valentin Maduaz che è molto buono in pianura anche lui con 76 più 1 del picco di forma quindi 77 quindi può farmi un bel lavoro attenzione che anche in leggerissima discesa questo arrivo quindi io partirei ora con Corbin Strong e con anche Lamperti partiamo con tutti praticamente vediamo ragazzi vediamo vediamo Lamperti che ci prova però Mads Pedersen è troppo più veloce direi che Mads Pedersen si va a prendere la tappa Tulet secondo noi arriviamo terzi buono per la classifica della maglia verde ma non buono che vinca Mads Pedersen che detiene la maglia verde in questo momento noi la vestivamo però la detiene Mads Pedersen quindi perdiamo punti però vabbè buono per la seconda posizione appunto vince Mads Pedersen noi arriviamo terzi ripeto buono per la seconda posizione non per tentare di vincerla sesta tappa l'arrivo a Gap un'altra tappa collinare quindi chissà ci possiamo riprovare proprio con il nostro Lamperti ragazzi riprendiamo ora perché voglio tentare la mattata voglio provare la mattata ragazzi sono un po' di nuovo troppo lungo come treno ma va bene voglio tentare la mattata tentiamo l'attacco qua Lamperti dov'è voglio Lamperti cioè sto provando la mattata per la maglia verde non per altro perché c'è Dyer Quintana a rompere le balle raga ma perché Dyer Quintana meno male che questo è l'ultimo anno quel maledetto contratto di tre anni che gli ho fatto la prima stagione meno male che questo è l'ultimo anno ce lo leviamo poi per la prossima stagione non ne posso più non ne posso più di Dyer Quintana sinceramente meno male che è l'ultima stagione perché non è manco buono a portare le borracce fate voi cioè l'inutilità fatta a corridore della nostra squadra ok vi attacco attenzione abbiamo creato un gap stiamo creando un gap perché questi sono i fuggitivi ragazzi questi sono i fuggitivi stiamo creando un gap continuiamo continuiamo raga continuiamo tra l'altro c'è finalmente Tao Gaganart che si sente bene per questa tappa quindi entrerà in funzione dopo Valentin Madouas che ancora sta procedendo molto bene con questo attacco ragazzi attenzione tre chilometri e sei siamo messi da dio da dio ragazzi mandiamo avanti Tao ok molto bene bravo Tao prendiamo il gel con Mattio e con Lamperti ragazzi siamo messi benissimo ragazzi siamo messi benissimo non so se farlo già andare in scatto sì dai mi sento di sì mi sento che è la cosa giusta da fare vediamo se ho ragione o meno due chilometri e attenzione io devo però far vincere Lamperti potrebbe anche vincere Mattio che è quarto e terzo nella classifica punti anche a pochi punti da Lamperti però direi che dovrebbe vincermelo Lamperti sinceramente la tappa quindi in caso pianterò lì Mattio davanti al traguardo lo so è un peccato farlo però in caso lo faremo però non c'è bisogno perché Mattio ha finito il gel rosso quindi Lamperti dovrebbe in scioltezza superarlo e Lamperti si va a prendere un'altra splendida tappa davanti al nostro capitano Pietro Mattio quindi un 1-2 interessantissimo e anzi un 1-2-3 e 4 interessantissimo perché facciamo quartetta non doppietta quartetta però purtroppo Mats Pedersen è in quinto quindi credo abbia difeso la maglia verde quindi ragazzi arriva un altro grandissimo risultato con la vittoria di Lamperti davanti a Mattio Pietro poi Valentin Maduase Tao Gheganart quindi per la maglia verde come vi dicevo la tiene Mats Pedersen con 18 punti di vantaggio su il nostro Lamperti sinceramente la vedo dura togliergli questa maglia a Pedersen e ragazzi settima tappa ritornano le montagne tappa dura con per un arrivo meno duro insomma dopo aver affrontato due Orcategori una salitella meno dura degli Orcategori finale vediamo con il nostro Mattio cosa si riesce a fare ragazzi riprendiamo ora che mancano 800 metri allo scollino del penultimo GPM insomma quello prima dell'arrivo perché? perché voglio provarci voglio provarci siamo lontani in classifica generale bisogna inventarsi qualcosa no? lo facciamo qua proviamo ad inventarci qualcosa qua proviamo ad inventarci qualcosa qua con i nostri tre i nostri tre uomini da salita ci proviamo ci proviamo raga ah Valentin Maduasa per un attimo ostacolato Gaganart Mattio perché non sta dietro Mattio devi stare dietro Strong non mi serve che mi proteggi Mattio Valentin Maduasa vai per la tua strada magari se riesci a rimanere qua sarebbe buono vediamo raga purtroppo non stiamo facendo la differenza Tao molto bene sta andando giù tutta però non stiamo facendo la differenza quindi mi sa che la mia idea che avevo in testa non riusciamo a realizzarla sapete vediamo qua vediamo qua che c'è ancora un piccolo tratto di salita vediamo se Tao può fare quella minima differenza per portar via il treno per portar via il nostro Pietro Mattio il problema è che inizia a scarseggiare con le energie il nostro Tao eh no ragazzi no 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 niente da fare l'ho provata l'ho provata però finché c'è questo ritmo c'è poco da fare raga nulla direi che ci vediamo nel finale e inizia ora l'ultima salita 5 km più o meno di salita Valentin Maduasa splendido riesce pure a rifornirci grandissimo Valentin Maduasa che si mette a proteggere il nostro Pietro Mattio allora dobbiamo eh attenzione perché partono i primi attacchi attenzione perché partono già i primi attacchi e qua diventa tosta la situazione diventa molto tosta allora che abbiamo qua no c'è Tao che è vicino direi che ci prova Tao a rispondere Valentin Maduasa teniamocelo buono qua dietro che magari mi può tornare utile negli ultimi chilometri tentiamo di far rispondere il nostro Tao l'Eknesund e Ighita provare l'attacco viene su bene Tao viene su molto bene Tao il problema è che sta facendo spendere un pochettino di energia il nostro Pietro Mattio però vediamolo ragazzi vediamo vediamo c'è un Tao che comunque ci sta provando a lavorare per Pietro Mattio a fare qualcosa 3 km a questo punto dobbiamo solamente pensare alla la vittoria di tappa perché la classifica generale la vedo difficile avendo 6 minuti di distacco sicuramente da gente buona a cronometro tipo mi viene in mente bene pulse c'è non lo so ho visto Vingegaard quindi comunque qualcuno di buono c'è a cronometro Tao bravissimo ha fatto un gran bel lavoro però ora crolla e quindi tocca Valentin Maduasa tentare di portare su il nostro Pietro Mattio che va a prendersi il gel è partito forte Ighita mi sa mi sa che Ighita non lo si va più a riprendere è Ighita vero si è Ighita Ighita non lo si va più a riprendere ragazzi però bravissimo Valentin Maduasa che a questo punto lascia il nostro Pietro Mattio da solo a lavorare a lavorare da solo Pietro Mattio che però non ne ha lo vedete sta tornando indietro posto che andare avanti forse era meglio continuare a seguire Valentin Maduasa però volevo salvaguardargli un po' di gel rosso in vista della volata però direi che ragazzi il nostro Pietro Mattio non riesce a fare molto in questa tappa ma va bene così Ighita la vince arriva secondo alla Philippe noi arriviamo credo in top 15 sì sì arriviamo a tredicesimi tappa che quindi vince Ighita noi arriviamo a tredicesimi con il nostro Mattio quindi non siamo neanche in top 20 della classifica generale e siamo sempre secondi per la maglia verde ed eccola qua l'ultima tappa durissima una salita finale molto molto dura vediamo il nostro Mattio se sta bene possiamo provare a puntare alla tappa e magari a scalare un po' la nostra classifica ultimi tre chilometri e mezzo ragazzi di questa ultima salita del criterium Dauphiné vediamo un po' il nostro Mattio che è messo Nì non è messo proprio benissimo neanche male ancora Valentin Madoise a proteggerlo là davanti c'è Chie Godou si Godou campione nazionale francese 2 chilometri 800 metri bene Pietro Mattio Valentin Madoise fra poco dovrebbe abbandonarci e salutarci e dirci addio bravo comunque il nostro Valentin Madoise che prova anche lui a difendere una posizione in classifica ti rincalzo per carità vediamo ragazzi crollano tutti crollano tutti vediamo il nostro Pietro Mattio se prova ad avvantaggiarsi potrebbe arrivare quarto di tappa vediamo però dietro secondo me qualcuno che ne ha di più del nostro Pietro Mattio ci può essere vediamo ragazzi vince la tappa alla Filippa sorpresa con Vingegar secondo terzo David Godù nostro Pietro Mattio comunque prestazione positiva arriva a quarto va bene peccato per quella cronometro se no avevamo fatto un delfinato bello non credo che l'avremmo vinto con questa quarta posizione no avremmo fatto un bel delfinato e allora finiamo questo delfinato con la quarta posizione di Mattio e la quindicesima di Valentin Madoise in quest'ultima tappa arriviamo quattordicesimi in classifica generale con Mattio peccato veramente per quella cronometro abbiamo perso sui sei minuti qualcosa saremmo arrivati quarti credo a fine di questo delfinato ma comunque è stato un grandissimo delfinato perché tre vittorie di tappa ce le siamo portati a casa non mi posso lamentare assolutamente ripeto solamente un piccolo peccato per la classifica generale ma va bene così per la maglia verde arriviamo secondi terzi sesti noni quindicesimi direi anche qua gran bel risultato per la maglia verde la PUA non ce ne siamo mai interessati arriviamo ottavi nei giovani terzi la vince Antonio Tiberi un altro italiano e nelle squadre quarti ragazzi ripeto secondo me è stato un buon delfinato ripeto peccato per la classifica generale però per il resto è stato veramente un buon delfinato io devo capire una cosa Mattio Pietro non credo mi sia entrato in picco di forma giusto come già che lo vedo non mi ricordo mai come ha forma Mattio Pietro non mi è entrato in picco di forma però ha una forma che va giù perché ovviamente il suo picco era solo per delfinato e il campionato italiano raga però potrei pensare di rivedere un attimo i piani di Mattio Pietro non falli correre la route Cittain e magari me lo potrei portare al Tour de France non ne sono sicuro che lo farò perché comunque ho visto che quel recupero a 67 non fa ben presagire ben sperare ecco per il Tour de France però vediamo magari me lo porto non ne sono sicurissimo perché comunque lui se non erro dovrebbe fare la vuelta non vorrei andare a compromettergli magari la stagione per farlo venire al Tour de France con una forma che magari cala quindi non lo so raga vedete alla vuelta non lo so credo di no credo di no penso che punteremo ugualmente su Tao nella speranza che riesca a far qualcosa se no comunque possiamo provarci per la classifica con Finn che mi va a fare il Tour e anche con Valentemma Duas non tanto per la classifica ma per le vittorie di tappa vedremo insomma tanto la prossima corsa che andremo a vedere qua a video sarà proprio il Tour de France magari con un piccolo accenno di qualche nazionale se riusciamo a far bene c'è anche la maglia di campione USA da dover difendere vi ricordo perché siamo noi campioni USA con Lamperti quindi vediamo raga io vi dico solo che oggi sono in live con il tour con la Sudal Quickstep quindi da non perdere assolutamente ore 4 ore 16 siamo in live lo iniziamo e lo finiamo gli abbonamenti sono attivi se vi volete abbonare grazie mille iscrivetevi al canale se non siete iscritti lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao